Io tendo a semplificare in maniera tale che ciascuno poi, osservando una tela, possa riconoscersi. La semplificazione come recupero dell'essenziale, una progettualità immaginaria che Francesca Romana Sturnelli riesce a condensare nei suoi due mondi professionali, l'arte e l'architettura. Protagonista della mostra Penelope in tela, esposta in questi giorni all'Aquila, Palazzo dell'emiciclo, in coincidenza con la ricorrenza dell'8 marzo, giornata delle donne. Sono partita dallo spunto del viaggio di Ulisse, che in genere appunto nello di sé è visto come il protagonista, per fare un'indagine anche su tutto quello che gira intorno ad Ulisse. E sono moltissime donne, moltissime donne che hanno delle caratteristiche molto diverse fra di loro. Si tende a dire una cosa è troppo facile, avrei potuto farla anch'io. In realtà non è così, in realtà uno potrebbe rifarla, però il farlo per primo, il arrivare a quel punto di semplificazione è un processo molto molto complesso.